e ciao ragazzoli benvenuti ben ritornati qui nel mio canale io sono rick siamo ancora qui su advanced warfare vediamo un po' se riusciamo se non altro a non perdere miseramente come è successo nell'ultima partita fatta quella che avete visto io quasi quasi provo con il kf5 ma perché adesso sei andato mamma mia ma perché perché partiamo subito malissimo partiamo subito malissimo aia peccato questo ehi si da dietro da davanti ovunque ovunque il nemico prende bravo drone d'assalto alleato in arrivo perdiamo c il nemico prende b eh si abbiamo perso b mamma mia faccio schifo ua v nemico online il nemico controlla bravo arriva un approvvigionamento nemico eh si e sono morto malissimo ovviamente ho fatto due kill quindi ua v alleato in sorvolo abbiamo perso il comando eh lo so mi combino lo so ua v alleato in sorvolo eh ne spunti ma spunti ma spunti c'è vabbè c'è vabbè ok non so che moda cosa sia questa ecco appunto mi sono girato dall'altra parte perfetto alla grande rick si uoco di copertura si mano nemica mamma mia non c'è niente da fare conquistiamo alfa non so come sia possibile ma ragazzi non muoiono eh oh sono sempre in due qua eh vanno sempre in coppia indovinate come cosa conquistiamo alfa bravo camper abbiamo perso alfa abbiamo perso alfa abbiamo perso alfa pancio di approvvigionamenti abbiamo il controllo missili alleati in zona ok quello l'avevo visto mi ha salvato eh questo si muove a scatti vabbè come siamo messi male mi siamo messi male mi siamo messi male oh un pugno nei denti ci voleva ho anche failato questo abbiamo perso B abbiamo perso B ci andiamo a te il medico controlla bravo non so dove l'ho lanciata ho sbagliata miglioramente intervallo vabbè non è andata malissimo ero un po' concentrato scusate se non ho parlato moltissimo 12-14 12-14 siamo sulla linea di galleggiamento vabbè siamo sempre al vertice per quelle prese per le bandiere prese siamo a 2 di più la mia squadra non ne ha fatte non so dove non so dove cioè gli ho fatto l'hit marker col pendolo proprio con la bomba stessa mamma mia stiamo scherzando spero eh si la delta a sinistra no no con la bomba il nemico prende A conquistiamo B non so cosa sia questa nessuno mi da una mano nessuno mi da una mano eh no mi è andata finna adesso vabbè niente da fare ok stava andando bene bene insomma recentemente ovviamente è vero che abbiamo preso entrambe le bandiere perchè io non volevo fatta miseria ok ok abbiamo recuperato l'energia niente un cavolo perchè un colpo e sono andato giu eh vabbè strano via 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 la tua squadra controlla il sistema anti uomo eh ti pareva che ce ne avessi uno alle spalle a ardiamo bravo luôn che troppo l'occasione ragazzi abbiamo perso bravo e tutte ma perchè continua ad essere ammazzato almeno fatemi muovere non dico tanto ecco appunto è incredibile stava andando benino infatti conquistiamovi abbiamo perso il comando eh niente bravo sotto controllo UAV nemico in volo il nemico prende bravo siamo passati in vantaggio avete aggiunto qualche zero al vostro bonus ottimo lavoro sul filo del rasoio proprio eh 23-28 ci siamo quasi allineati ovviamente alla fine ho buttato via tutto quello che di buono l'ho fatto durante la partita perchè ho fatto un po' di kill di fila ma vabbè è lo stesso l'importante è divertirsi questa partita è stata abbastanza divertente spero di aver regalato un po' di divertimento anche a voi ragazzi una decina di minuti di così di dispensieratezza magari avervi star fatto un sorriso sarebbe cosa buona vi ricordo di lasciarmi un commento per le mie vostre un mi piace è sempre gradito in descrizione trovate la pagina di facebook mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per news e quant'altro e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzuoli